E' un contratto di lavoro che nasce per agevolare l'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, è la porta d'ingresso principale della riforma Fornero, cosiddetta, ed è un contratto a tempo indeterminato, quindi è un contratto di lavoro. Nasce un po' da questa idea, lo Stato dà degli sgravi importanti all'azienda, chi entra in azienda ha un contratto a tempo indeterminato, ma nei primi anni è meno pagato di chi entra senza l'apprendistato, l'azienda si impegna a darti quella formazione per le competenze e le conoscenze che ti consentiranno poi di essere un lavoratore a tutto tondo. Quindi è un contratto di impostazione solidaristica per l'accesso al mercato del lavoro. La grande novità è l'apertura anche ai minori per l'apprendistato che fa rilasciare una qualifica, fa prendere un titolo di studi. Quindi può essere fatto dai 15 ai 25 anni per persone che hanno la terza media e che assunte, pagate, lavorano, ma hanno anche una quota di monte ore di formazione anche all'esterno dell'impresa, in modo che poi possano diventare un tecnico elettrico piuttosto che un tecnico da cucina o quanto altro. Questa è la grande novità dell'apprendistato di oggi. Esiste poi quello conosciuto come professionalizzante, cioè l'apprendistato che viene fatto in un'azienda che si impegna a trasferire delle conoscenze e delle competenze per le attività che vengono svolte. Parliamo sempre di persone assunte, pagate, che vengono aiutate ad aumentare la loro professionalità. Questo è anche possibile in alta formazione. Ci sono già degli esempi di aziende che assumono laureati o comunque chi è uscito da percorsi di alta formazione e anche in questo caso l'azienda prevede dei percorsi di aggiornamento, di formazione, che consente durante l'apprendistato di acquisire tutte le competenze e le conoscenze. Le aziende hanno dei vincoli, devono garantire i percorsi di formazione sia in tutte e tre le forme di apprendistato e hanno dei numeri per cui non possono assumere più di un certo numero di apprendisti in base al numero dei dipendenti, onde evitare che ci siano aziende che, come dire, sfruttano lo strumento per sottopagare la mano d'opera. Se un'azienda, ad esempio, non confermerà a tempo indeterminato un apprendista, ha più difficoltà poi a prendere altri apprendisti. Ha due vantaggi. Si forma le persone per i propri specifici bisogni e nel primo periodo ha importanti sgravi fiscali con una retribuzione inferiore rispetto alla mansione che viene normalmente fatta in azienda. Quindi l'azienda deve rappresentare, come dire, una capacità di una responsabilità sociale perché aiuta i giovani ad assumere tutte le competenze necessarie, ha gli sgravi contributivi e un salario inferiore. Quindi deve manifestare un impegno nell'interesse del giovane, ma devo dire nell'interesse anche delle imprese perché se le imprese ci aiutano con l'apprendistato, con l'inserimento degli studenti, con il work experience, se i tirocini ad aumentare la capacità dei giovani a stare sul lavoro, qualificherà tutto il suo settore produttivo o di servizi. Questa è una cultura nuova che dobbiamo sviluppare sia all'interno delle imprese sia all'interno dei sistemi formativi.